E io c'è qui con un nuovo video ragazzi, io sono Gry e oggi siamo tornati su EFootball 2024 per andare ad analizzare l'update insieme, ve l'ho detto Perché non si sente l'audio? Tecnicamente l'audio c'è Ma? Ah non c'è quello del gioco, beh perfetto, iniziamo bene ragazzi, iniziamo bene Qui abbiamo segnato, ci siamo presi i nostri 50.000 GP che erano il premio finale di questo giro Adesso andiamo a mettere l'audio E vi stavo dicendo, come vi dicevo nell'ultimo video ragazzi, non c'è più una scaletta, non c'è più un video al giorno, un video ogni due giorni Quando vi ritrovate il video, quando ho tempo ragazzi, quando ho tempo, voglia E allora innanzitutto se parlo non riesco a leggere, a fare quello che devo fare Di solito gioco così, tre, tre e tre Vi dicevo, quando ho tempo, quando voglia Quindi potrei portarvi, potrei fare anche due settimane a portarvi un video ogni due giorni Perché ho tempo in quale due settimane E poi fare una settimana a portarvi un video solo Per esempio, eh, per esempio, adesso riscattiamo le cose che abbiamo qua Ehm... Come vi dicevo, come vi spiegavo, infatti Le cose sicure sono gli update ragazzi Perché mi portano via poco tempo Riesco ad entrare, mi guardo l'update con voi Non ho bisogno di mettermi lì, perdere due ore per fare le partite Per editare il video Quindi, eh, quelli sicuramente li vedrete Sarò costantemente attivo Per quel che riesco ad esserlo Ehm... Allora, abbiamo un giro Un giro gratis qui su Beckenbauer Va bene, ho fatti due ragazzi Facendo le missioni tutto arrivate a sbancarlo Questo banner Quindi Beckenbauer teoricamente è free to play per tutti Beckenbauer come Rashford e Modric Quelli che ci sono dentro, adesso ve li faccio rivedere Qui abbiamo trovato un due stelle che possiamo tranquillamente svincolare Allora, 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 allora Eh, non vi posso far vedere nulla Perché giustamente non... Non c'è più il pacchetto Comunque, eh, sono tutti free to play Dovreste riuscire a sbancarlo Basta fare tutte le missioni, gli eventi che ci sono... Che ci sono qui, ve li faccio anche vedere, eh Allora, abbiamo missioni, obiettivi Eccolo qua Ci sono tutte queste missioni da fare Segnare gol, vincere partite Vi dà, vi dà un bel po' di giri Più quelli free to play Più quelli negli eventi Quindi ci sta, dai Un Beckenbauer free to play, ragazzi Ci sta Adesso punterò anche io Eh... A... Punterò anche io a... A provarlo, quel Beckenbauer Ad arrivarci, almeno E... E trovarlo, soprattutto Perché sì, ho quello vecchio Quello vecchio, però questo è nuovo È più forte E... Comunque free to play Perché dovrei rinunciare A una epica regalata così Come stessa cosa per Rashford, Modric E non mi ricordo che era l'altro Che ci sono dentro Di... Comeback del PES 2020, no? Adesso, ragazzi Io vorrei vedermi Eccolo qua Il pacchetto Dei... Degli European Clubs Attackers Eh... Abbiamo David Villa Van Basten E Paolo Sergio Allora Paolo Sergio non lo conosco Non lo conosco Di Cannata è 99-2000 Non lo conosco Assolutamente David Villa Van Basten Vabbè, ok Chiacchia che non li conosce Non si sa 0-5-0-6 E Van Basten 91-92 Nonostante questo Comunque Vabbè Van Basten Eh... Vediamo chi altro c'è dentro Perché sinceramente Ho visto soltanto le epiche Un attimo così Al volo E abbiamo Un po' di merda Un bel po' di merda Ragazzi Ben Yedder Zaccagni Ghiocores Questo è forte Cioè In game non lo so Non credo Perché è molto giovane Oddio Pensavo più giovane in realtà 25 anni Però sta facendo bene quest'anno E... Vabbè Niente di che Madison Dembélé Dembélé è forse l'unico Che un po' C'ha quelle statistiche Che dici Eh... Eh... Infatti c'ha tanto dribbling Tanto controllo palla Tanto possesso stretto Tanta velocità Accelerazione Forma incostante Ecco Quello Dipende dal punto di vista È una pecca Ma Come per Cialanoglu Quando è a È praticamente sempre su Quindi non lo so Quanto pecca Possa essere Però Mettiamocela tra le pecca La forma incostante Vabbè Eh... Ci può stare Allora abbiamo Paolo Sergio ragazzi Che in realtà In realtà Con Il Booster Ha anche Anche delle belle abilità In realtà Eh... Non è male ragazzi Non è male È un Dembélé Un po' più completo Secondo me È un Dembélé Un po' più completo Vi dico così Perché ha tanto dribbling E tanta velocità Però non spicca tanto Quanto Dembélé Ma allo stesso tempo C'ha delle belle statistiche Anche in altre In altre In altri reparti Ecco Mettiamola così Eh... 1,80 Vi dirò Si vede subito Si vede subito Appena ci clicchi Che è il peggiore dei tre Ma neanche Neanche ci devi cliccare Lo capisci già dal nome Gli altri due sai Chi sono Cosa hanno fatto Paolo Sergio No E... Vabbè È il peggiore dei tre Però non è male ragazzi Non è male È una buona epica Un buon esterno Ecco Poi Non so Cioè nella mia squadra Non troverebbe mai spazio Probabilmente neanche in panchina Però è una buona È una buona epica Per chi Per chi non shoppa Comunque lo si trova in due o tre giri O in un giro solo da dieci Non è male Non è male Poi abbiamo Van Basten E David Villa E devo dirvi Van Basten È carino È carino Sicuramente meglio del Van Basten epico Che era uscito Quello Non quello big time Che non era male Quello big time Quello epico Vecchio Che poi hanno reso Anche free to play Quello che ho anche io Praticamente Quello fa veramente cagare Abilità Non è messo male Anzi Gli si può aggiungere Quelle che gli mancano Quindi anche qualcosa Di passaggio Tiro di prima Cose che servono La punta Ragazzi Cose che servono La punta È un rapace d'aria È un rapace d'aria E con il booster Parte da 85 Di finalizzazione Quindi tranquillamente Arriva a 99 Anche 100 Se volete Devo dirvi Devo dirvi È abbastanza completo Allora Si nota subito Un 59 Di controllo corpo Che probabilmente È la pecca Più grande Di questa carta 59 di controllo corpo Non si muo Non si gira Ragazzi Non si gira Però contate che un rapace d'aria Quindi il suo compito Non è quello di girarsi Dribblare Scattare E nonostante ciò Parte da 76 Di accelerazione E 78 Di velocità Quindi Paradossalmente Alla velocità Arriva anche a 90 L'accelerazione Quasi Però è completo C'ha veramente tutto Un bel colpo di testa Un bel controllo palla Comportamento offensivo Passaggio raso terra Anche Poi Glielo porterei su Non troppo Sendo una prima punta Però Anche quello Potrebbe arrivare a 90 Volendo È completo ragazzi Veramente È una bella carta Anche se David Villa Devo dirvi David Villa Secondo me Ha qualcosa in più Secondo me Qualcosa in più Non solo ad abilità Ma con il booster Anche a completezza Perché Perché ragazzi Cioè questo vi tocca a 90 In tantissime In tantissimi reparti Cioè in dribbling Arriva tranquillamente a 90 Controllo palla Stessa cosa Comportamento offensivo Finalizzazione Accelerazione Potenza tiro Sicuramente Controllo corpo Che è la cosa Che manca A Van Basten Ed è veramente Veramente importante C'è anche un 71 Di colpo di testa Poi sì Non ha contatto fisico 58 Non ha calcelafermo Ma quelli non contano E quindi sì In realtà La pecca di questo David Villa Essendo una prima punta È l'altezza È il contatto fisico Quello Sicuramente Sicuramente Però da giocare Seconda punta Secondo me O sempre punta Ma di fianco A una punta Di riferimento Come giocherei io Questo David Villa Lo giocherei Dove gioca Baggio O Sì Destro Dove gioca Baggio Secondo me Al posto di Messi Non ce lo vedo molto bene Ma dove gioco Io Baggio Cioè di fianco Un CR7 Che è in mezzo Che ti fa le sponde Che la tiene di fisico Che finalizza Ecco lui di fianco Sarebbe la perfezione È veramente Tanta roba Sto Villa Quindi Vi dirò Vi dirò Qualche monetina ce l'ho Non ci butto più un euro Non ve lo sto manco a dire Però Due singole Nessuno ci impedisce Di farcele Si è anche colorato Ma non mi sembra sia una Non mi sembra promettere Nulla di buono In realtà Abbiamo Una merdaccia Una merdaccia Clamorosa Otavio Tre stelle Vabbè Va bene In realtà Più che altro Più che altro Vi voglio No Sulla Roma Non ho fatto nessuna singola Scade fra due giorni Cazzo Devo fare il pot Anche se non è che sia Chissà che cosa Sto pot Però Prima di fare l'ultima L'ultima singoletta Ragazzi Vi voglio Per annunciare Che Per Per massimizzare I tempi Io Giustamente Per starci almeno dietro Un minimo al gioco Cosa devo fare? Gli eventi Li devo fare Questi qui online Li devo fare La limited Spanish Spanish clubs Japanese clubs Adesso Japanese clubs Sono sicuro Il 200% Che non interessa Un cazzo di nessuno Compreso me stesso E poi lo farò lo stesso Però Sono quegli eventi Quello Quello giapponese Quello messicano Che fai Per i premi Fai per i premi Ma non faresti Altrimenti non faresti mai Però ragazzi Un Japanese Un Scusate Uno Spanish clubs Un unlimited Un Italian clubs Quegli eventi lì Sono comunque tre partite online Che secondo me Portare un video In cui fai quelle tre partite E giochi una squadra diversa Dal solito In realtà Che non è la top Potrebbe essere interessante Quindi aspettatevi magari Un video A settimana O quando riesco a portarvelo In cui faccio Uno di quegli eventi Comunque sono partite online Puoi incontrare un divisione 1 Come puoi incontrare un divisione 7 Ci mancherebbe Però sono partite online Con una squadra diversa dal solito Quindi si provano anche giocatori diversi Da quelli che provi solitamente E secondo me Potrebbe essere interessante Anche perché Se io mi devo mettere a fare gli eventi Già non ho tempo Cioè ragazzi Non sto giocando E non faccio una partita Dall'ultimo video che ho portato Che era un video tagliato Poi Tutto Incasinato così Intanto che faccio l'ultima singola Per massimizzare i tempi Devo fare quegli eventi? Sì Faccio partire la registrazione Ve li faccio con voi Commento Vi tengo compagnia Ed è un video in più Visto che Ne sto riuscendo a portare veramente pochi Penso faccia piacere anche a voi E ragazzi Vabbè Pepe Non è neanche il Pepe che conosciamo noi Ma è Pepe Non lo so in realtà Non so come si pronuncia Comunque E' un bel pacchetto in realtà A parte Paolo Sergio E' un bel pacchetto Quindi Mi faccio l'ultima Mentre vi saluto Intanto ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Aspettatevi Dei video Casuali però Cioè nel senso Magari domani non esce nulla Dopodomani neanche Fra due giorni Fra tre giorni Uscirà un video al giorno Non lo so Aspettatevi tutto così Come viene ragazzi Come viene Non state più lì Aspettare il video ogni giorno E Niente Cazzo Questo qua era della squadra Era della squadra Guardate lo stemma Vi prego Della squadra Del team Pipponi Cioè Non lui nel team Pipponi Ma è dello stemma Che abbiamo nel team Pipponi Quello con la maglia Con i cuori Bellissimo Fantastico Senza parole Ritornerà anche quello Ritornerà anche quello Ve lo preannuncio Il team Pipponi Quello è immortale ragazzi Devo portarvelo Siamo arrivati poi anche Ai 100 iscritti In più Quindi Ve lo devo Ve lo devo Il video del team Pipponi Ve lo devo Quindi spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivedremo In un prossimo video Ciao a tutti